nome jedaias neves professione ex calciatore qual è stata la sua maggiore sfida nel passaggio dalla serie a alla serie b e come ha affrontato la transizione la mia più grande sfida è stato quando ho lasciato la serie a e soprattutto quando lasciato il livello più alto per scendere di categoria adattarsi alla categoria sotto è stato un po complicato però mi sono adattato velocemente puoi raccontarci un momento particolarmente significativo della sua carriera da calciatore che ti ha insegnato qualcosa di importante per la tua vita beh tutti i momenti della mia carriera sono stati importanti per me chiaramente il mio arrivo dal brasile in italia è stato fondamentale importante in cui era il momento che ho capito che era quella la professione che volevo fare quindi penso di essere stato una persona che ha lottato sempre per i miei ideali e essere venuto in italia e per il fatto che sono tuttora credo che quello sia stato il passaggio più importante durante la tua carriera hai avuto la possibilità di lavorare con diversi allenatori qual è quello in particolare che ha avuto un impatto significativo su di te e quello che magari ispiri a diventare ne ho avuti tantissimi maestri come allenatori tantissime persone che mi hanno insegnato mi hanno dato qualcosa soprattutto il primo che ho trovato che era edirei a un allenatore di grande carisma un allenatore esperto che mi ha insegnato tanto anche come come padre secondo me però due allenatori in particolare che mi hanno insegnato tanto sia calcisticamente che a livello umano sono stati i gasperini allegri però non senza dimenticare tutti gli altri chiaramente sono due allenatori cui mi ispirò tanto uno per il modo per la gestione l'altro per il livello tecnico che insegna veramente tanto hai fatto il passaggio da giocatore ad allenatore quali sono le principali differenze che hai notato beh la differenza diciamo che la parola per per definire la differenza della responsabilità perché dal giocatore hai un tipo di responsabilità e da allenatore hai un altro tipo di responsabilità chiaramente sono due cose completamente diverse e non c'entra niente una con l'altra perché una è una responsa un tipo di responsabilità l'altra un altro tipo di responsabilità sicuramente l'allenatore ha un peso sulle spalle di tutto un ambiente il giocatore ha solamente quello di giocare a calcio quindi però sono due cose completamente diverse un gesto scaramantico che fai prima di scendere in campo beh mi faccio sempre il segno della croce mi faccio un paio di preghiera quello è quello più scaramantico che ho grazie Geda grazie a voi grazie 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 grazie